C'era l'obbligo di vincere per mille motivi, avevamo un solo risultato a disposizione, quindi dovevamo giocare in questo senso, con lo spirito di una squadra che vuole tutto quello. Credo che abbiamo vinto meritatamente, perché noi abbiamo sofferto dopo il gol un quarto d'ora, perché sino al gol non c'era stato neanche un tiro in porta, nei confronti della nostra porta. Però era fondamentale vincere, quindi va bene così, senza entrare troppo in merito a tante cose. Padova ha speso dieci volte quello che abbiamo speso noi quest'anno. Padova è partito per vincere il campionato, Padova ha pagato un po' le pressioni, perché un conto è quando sei free e un conto è quando hai l'obbligo di vincere. Ma questi sono dettagli assolutamente insignificanti che non interessano a nessuno. Probabilmente lo capisce Azzori, lo capisce Iachini, lo capisce Dalcanto, e lo capiscono tutti quelli che hanno vissuto questo. Lo capisce anche Ventura? No, io non lo capisco, io lo so, sei tu che non lo sai. Meglic ha avuto una distorsione, una caviglia, a Zoppi, quindi difficilmente è recuperabile. Poi credo che ci sia anche qualche donato squalificato, forse Vives, mi sembra. Vives i paesi, sono un po' in emergenza. L'unica cosa che ci sentiamo di dire, come ho già detto ai colleghi vostri, è che andiamo a Pescara, che ha fatto 18 gol in quattro partite, quindi ci sentiamo di affermare senza ombra di dubbio che si vedranno dei gol. Arrivata la mia età faccio una cosa alla volta, io a Sassuolo mi sembra molto lontano, adesso abbiamo Pescara, 18 gol, quattro partite, insigne, immobile, la Madonna, ce n'è per tutti i gusti.